Super gossip. Riccardo Guarnieri è finalmente intervenuto sulle voci di un suo ritorno a uomini e donne nei panni di corteggiatore di Ida Platano. Infatti, l'ex cavaliere del trono Over ha svelato alla rivista ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi cosa pensa sulla tronista e come sta procedendo la sua vita lontano dai riflettori. Ma andiamo nei dettagli dell'intervista e vediamo cosa ha detto. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Riccardo Guarnieri ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale attuale. La sua assenza dal trono Over era infatti stata attribuita ad una relazione con una sua compaesana, una certa Gabriella, ma qualche tempo fa erano giunte voci di una rottura. Durante la sua intervista l'ex cavaliere ha detto di essere sereno, ma non ha menzionato di avere una fidanzata e questo ha riempito i fans di speranze. Tornerà in studio per corteggiare Ida Platano? Il quarantenne di Taranto ha ammesso che la cosa lo incuriosisce molto, ma non si è sbilanciato ulteriormente. Sebbene Riccardo abbia dissipato alcuni dubbi riguardo alla sua vita sentimentale, non è escluso che possa ancora sorprendere il pubblico con un ritorno inaspettato a Uomini e Donne. La storia travagliata tra lui e Ida Platano ha appassionato milioni di telespettatori e un suo ritorno potrebbe portare un nuovo capitolo di colpi di scena. La tronista potrebbe decidere di frequentarlo di nuovo qualora scendesse come corteggiatore? Staremo a vedere. Ciao al prossimo video super gossip.